Non pensarci neanche. A cosa? Non esiterei a sparare. Stia tranquilla. Non scapperò prima di arrivare a Parigi. Grazie dell'informazione. Devo andare alla toilette. Trattienila. Non posso. Non ci sono bagni qui? Sì, là. Lo scorti alla toilette. Va bene, tieni. Andiamo. Firmo. Tu non entri? No. Non chiudere la porta. Hector. Tranquillo. Non sono un assassino. Ho rubato dei gioielli. D'accordo? Hector! Sì? Vuoi entrare? Perché? Non ci riesco con le manette. vuole lo scontrino? Ah, sì. Grazie. Grazie. A lei. Arrivederci. A lei. Signore, polizia. Ha una gomma a terra. Ah, sì? Quale? Posteriore destra. Controlli. Ho sbagliato, era l'altra macchina. Bel cassette! Bel cassette! No, Hector! No, 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 no! Merda!